E' lindo, stiamo qua con Carlo, ci sto spiegando ottimo, è stato rito io che è stato il race, in pratica, non si spiega, considerato il periodo storico e le capacità non acquisite, un risultato del genere, avvicinando. Si, perché questi blocchi sono... Si è stato un aiuto esterno, è una delle teorie che è un aiuto mio, è stato il race oppure quella di una mente superiore, come Riccardo, ecco. E' una versione di me, di 3.000 anni fa, che ha pensato a ciò. Vabbè, secondo me è così, eh. Vabbè, raga, ci vediamo a voi, ci vediamo a martedì, ci facciamo alla foto. Ciao belli, forza cammelli.